I punti nascita di Sapri e Polla sono salvi e quanto emerge dal piano ospedaliero approvato in via definitiva dalla regione Campania. Ieri il via libera dopo l'incontro tra la delegazione della conferenza delle regioni e il ministero della salute, in vista della riunione che ci sarà nei prossimi mesi per la definizione del patto per la salute che servirà a definire l'intesa tra governo e regioni sulla programmazione sanitaria. Il nuovo piano ospedaliero prevede i punti nascita di Sapri e Polla inseriti in DEA di primo livello. A un decennio dal vecchio piano e il commento del presidente della regione De Luca, che prevedeva tagli drammatici di strutture e chiusure di interi ospedali, viene approvata una programmazione ospedaliera equilibrata, seria e rigorosa, che tiene conto delle esigenze dei territori e tutela fino in fondo il diritto alla salute dei nostri concittadini.